Attenzione al sociale, tanto sbandierata dalle istituzioni ma purtroppo sempre poco concretizzata, incentivi allo sport anche e soprattutto utili a puntare sulla cultura del benessere fisico e questi sono i temi al centro dell'incontro che l'Associazione Aclimolise ha organizzato al Cala Sveva Beach Club di Termoli con i candidati alle elezioni politiche di Forza Italia. Argomenti introdotti da Nestore Mogavero, Libero Barone, Anna Maria Totaro e Francesco Guida, il leader della Wilm, che ha aperto anche un fronte sul lavoro, in particolare sulla Gigafactory, nel corso dei lavori che sono stati coordinati da Pasquale Orlando. Esposti i bisogni di chi chiede servizi ulteriori che mancano in Molise, come i diversamente abili, ma anche quelli che dovrebbero essere scontati e che invece sono un lusso, vale a dire le strade a scorrimento veloce, infrastrutture e sanità sono le priorità che Anna Elsa Tartaglione ha enunciato nel corso del suo intervento, ricordando anche le emergenze sociali da risolvere. Noi siamo sempre stati molto attenti a queste tematiche. L'ACLI è sicuramente un rinferimento molto importante, soprattutto il sociale, credo che nella nostra regione rappresenti una grande fetta che spesso viene abbandonata, quindi è giusto ascoltare quelle che sono le loro esigenze e credo che ci sia l'impegno da parte di tutti noi, così anche come gruppo politico. In questa legislatura abbiamo portato avanti tanti temi, sia quelli della disabilità, ma anche quelli dello sport e della cultura. La questione della sanità è la questione che riguarda le infrastrutture della nostra regione, che sono forse rimaste a 40 anni fa. Bisogna sbloccare le opere importanti, bisogna fare in modo che la nostra regione sia un crocevia importante, bisogna fare in modo che le nostre strutture sanitarie siano allo stesso passo di quelle nazionali. Patrimonio paesaggistico, su questo ha focalizzato l'attenzione Claudio Lotito, che, tentato dal toccare con mano la sabbia termolese di fare un bagno nell'Adriatico, ha sottolineato la necessità di incrementare il turismo. Il benessere, se vogliamo parlare del benessere, il benessere è costante in una zona marina, con queste bellissime spiagge, dalle quali si vedono anche le tremiti, in un momento come questo fa venire la voglia di, onestamente, di usufruirne. Noi se stiamo in campagna elettorale, purtroppo non c'è permesso, però proprio per questo dobbiamo in qualche maniera essere consapevoli della responsabilità che abbiamo della tutela di questi territori e della valorizzazione in termini di fruibilità, in termini recettivi. Nicola Cavaliere, infine, ha ricordato che tra gli asset strategici del Molise c'è anche l'agricoltura. Per quanto riguarda la politica che attanaglia maggiormente le problematiche dei molisani sono quelli della sanità e quella delle infrastrutture, oltre alle politiche del lavoro e magari anche quella dell'agricoltura, mi tema molto caro.